Ecco, adesso c'è un microfono, io sono qua. Grazie, diamo la parola a Gianni, che ovviamente è stato contento a sentire che Alessandro Rossi aveva messo due bassori ieri al posto di uno. Gianni Pinton, dirigevi la televisione, lo conoscete tutti, no? Quando a volte penso al mondo cooperativo, che ha personaggi che dirigono aziende di quelle dimensioni, no? Che si difendono con grande imprenditorialità, grande capacità, ma rimangono, come dire, coi piedi per terra, perché a mattina si va a Montserrat e va, che? Ecco, io esprimo grande rispetto e grande stima nei confronti di questo tipo di persone. Ecco, Gianni, lo dico proprio, perché tanto adesso so che parli indietro, insomma. Giaffa, so anche parlare in italiano. No, diciamo una cosa. Tanto te mi metti in imbalasso, perché ero venuto qua, ero venuto qua con un certo spirito, no? Di trovarmi in un ambiente in cui ci troviamo tutti d'accordo con lo stesso obiettivo, una certa etica, no? E questo mi è restato un po', però non del tutto. Non del tutto perché, ascoltando gli interventi, sono quasi costretto a fare un intervento un po' meno ottimistico. Ecco, nel senso, provo a dire cosa vuol dire, qua che c'è amministratori e che c'è imprenditori. In un certo quel modo, molti di quei persone che c'è qua, se conosciamo da qualche anno, se troviamo a bazzicare nei comuni, negli incontri in cui si tenta di portare acqua a un futuro migliore, no? Mi non sommi a vecchio, però non sono neanche giovanissimo. Da 20 anni in qua, vorrei dire che questi discorsi li stiamo facendo abbastanza, un giorno sì, un giorno no, o quasi tutti i giorni. Mi viene in mente i famosi piani regolatori, PTRC, i piani di coordinamento provinciale, regionale, eccetera, che dovevano dare degli indirizzi. E li hanno dati, gli indirizzi. Però, ognuno, perché tifoso dell'Inter o del Milan e con quella maglietta indosso, e avendo un ruolo ben specifico, nella nostra società era così preso dalla maglietta del proprio colore che si voleva vincere lo scudetto di club e non della nazionale. Cioè, nelle club siamo tutti forti, quando ci mettiamo in nazionale un po' meno, insomma. Cosa voglio dire? Voglio dire che la programmazione del territorio con le idee di oggi sono le stesse idee di 20 anni fa. Però in 20 anni abbiamo distrutto tutto, con le idee buone. Cioè, quando provate a pensare uno che fa una casa nuova e il primo giorno che entra deve ancora mettere i mobili portendo tutti i scatoloni, è un gran casino, no? Dopo una settimana, 15 giorni, un mese, che ha tutte le sue cose a posto, è una casa ordinatissima. Beh, noi abbiamo fatto dell'Italia questo gran casino. La pianura padana era il posto più fertile al mondo. L'abbiamo fatta diventare una città. Una città che si poteva fare così, si potevano fare le stesse strade, i stessi edifici, la stessa urbanistica, solo con un ordine un po' diverso. Cioè, se l'ideale del nostro comportamento è ben chiaro all'inizio, è ben condiviso, e che se, non so, è il bel posto, mi piaceva quel discorso di del bel posto, no? Che un conto si è vivere e lavorare in un brutto posto, un conto si è vivere e lavorare in un bel posto. Noi abbiamo fatto di tutto per poter avere un brutto posto. Nel senso che anche oggi, anche adesso, non so, l'avvaldastico, certo che si può fare l'avvaldastico, però si può fare bene, si può fare male. Il progetto che stanno portando avanti adesso è malissimo. Da qua a Vicenza ci sono 30 strade, perché puoi scegliere che strada che vuoi per Tiene, o per Villaverla, o per Isola, puoi fare il giro, no? Però tutte quante fate male. Ne facciamo una nuova, sul territorio, e, progettando, la faremo con la riga, senza neanche tenere conto dove sono le aziende agricole, dove sono i valori ambientali. l'ospedale di Schio, di Sant'Orso, è stato l'unico argomento con cui non sono mai stato d'accordo con il nostro sindaco Piero. Siamo d'accordo su tutto, però sui ospedali no. Avevamo due ospedali, ne facciamo un terzo, in una zona che era Campi. Nella zona industriale di Schio, che è grande, ma è grande perché? Perché è stata progettata negli anni 70, in cui abbiamo copiato cosa facevano gli americani a Los Angeles. Cioè, abbiamo fatto capanoni su grandi spazi, non abbiamo mica copiato il Rossi che aveva fatto la fabbrica alta su poco spazio, perché nel 1800 Alessandro Rossi ha fatto la fabbrica alta e è riuscito a fare in maniera che la fabbrica alta, mettendo le cose al piano sopra, poi scendevano, non correvano neanche gli assessori, cascavano per caduta e la fabbrica funzionava. Noi abbiamo fatto tutto il piano terreno in maniera che i camion possano girare dappertutto. Adesso abbiamo la zona industriale più grande d'Europa e abbiamo distrutto quanti milioni di metri quadri. Solo pensando che il valore del territorio era un po' di più di quello che si aveva in testa, si poteva fare la stessa zona industriale con un minore spreco. Cioè, voglio dire, possiamo metterci intorno a una tavola e ragionare tutti assieme su cosa fare da adesso in poi. Però dobbiamo almeno riuscire a condividere e riuscire a dare il valore giusto alle cose. Quali sono le cose che hanno valore e quali che non sono di particolare valore. se la salute è valore, se il benessere è valore, se il bel posto è valore, dobbiamo comportarci anche di conseguenza, voglio dire, no? L'impressione mia è che ancora una volta venga fuori quel proverbio che andiamo a tentare di chiudere la staglia dopo che i buoni sono scappati. ma non solo dopo che i buoni sono scappati, ma non abbiamo ancora capito perché sono scappati e come si fa a riportarli indietro. Cioè, mi dico, il tessile è scappato via da questa zona, il meccanico anche. Adesso abbiamo qualche ditta di particolare valore, qualche innovazione, va bene? Adesso si sta tirando fuori l'idea che anche la nostra zona è bella, pur avendo distrutto qualcosa di bello. Per fortuna abbiamo la montagna che non sono riusciti a spianarla, no? E c'è ancora qualcosa di agricoltura. Poi abbiamo anche dimostrato come agricoltori che anche a Schio che dicevano che non è evocata né per fare il vino né per fare e altre cose da mangiare, abbiamo dimostrato che il vino viene buono lo stesso, anzi, abbiamo cominciato a vincere concorsi con etichetta mascherata perché se facciamo le etichette che si vedono vince il vino della Toscana o il vino del Friuli e se mascheriamo le etichette e gli esperti lo assaggiano senza capire da dove vengono allora possiamo vincere anche noi di Schio con la Cantina di Maio, no? Bisogna far così però, no? Abbiamo dimostrato che questa zona in tutto il Veneto è forse l'apripista dell'agricoltura biologica, però l'agricoltura biologica nonostante se ne parli tra la mattina alla sera né in televisione ogni volta incontri una persona non sanno neanche cosa vuol dire, no? Non sanno cosa, non si sa cosa vuol dire usare i prodotti chimici di sintesi in agricoltura e non usarli, questo non si sa e questo non si sa cosa vuol dire, praticamente noi mangiamo in tutto quello che mangiamo e beviamo incameriamo prodotti che sono come la plastica che non si degraderanno più però siccome questi prodotti questi prodotti alimentari con questi prodotti di sintesi costano molto molto meno e molto molto poco perché bisogna anche dire che la spesa per l'alimentazione 50 anni fa era l'80% dei sogli che avevamo in tasca una famiglia adesso le spese di alimentazione di una famiglia è meno del 10% nonostante diciamo che il latte è caro e la carne è cara no? Se questa è l'agricoltura globale e pretendiamo dei nostri contadini che riescono a fare il latte a 50 centesimi 40 centesimi certamente non si può fare il latte che è sanissimo capito? Se il biologico costa il 20% in più il 30% in più non mangia più nessuno perché costa troppo perché è l'ignoranza che non fa capire cos'è questo per esempio Schio è un po' un'apripista perché per dire c'è l'assessore di Valdagno per dire in l'attere di Vicentini ci sono 15 staglie di Valdagno e di Recuaro che sono certificate con l'agricoltura biologica e siamo l'unica cooperativa del Valdagno che ha questa nicchia di biologico però non riusciamo né dai comuni né dalla comunità montana avere nessun incoraggiamento perché i 4 disperati di montanari che fanno l'agricoltura biologica no cioè voglio dire io mi trovo a mio agio a parlare di questi temi e con voi però l'impressione è che quando diciamo abbiamo sentito prima che siamo in una fase che capita ogni 150 anni vorrei dire è una cosa eccezionale questa perché ci permette di riprogettare il nostro futuro però per riprogettare il nostro futuro dobbiamo fermarci 5 minuti e tararci su cosa su quali sono le cose buone e le cose che non interessano o le cose che non servono l'economia finora vista da un contadino è basata su un gran giro di affari che circola però molti degli affari e dell'economia che gira gira su qualcosa che non serve o su qualcosa che è effimera o su qualcosa che non assume valore o su dei consumi che 20 anni fa nessuno gliene fregava e noi li abbiamo messi in testa con la televisione che bisogna consumarla cioè sarà mia possibile cazzo che ci appiamo l'acqua dalle montagne la imbottigliamo e che tiriamo una montagna e schei con i trasporti con i camion con la gente che vende con i rappresentanti cioè è una roba assurda dirgli ai nostri invece di 100 anni fa che se non c'è l'acqua e buttigliamo e che avendiamo come oro che vai di più del latte e più del vino no no mi credo che si riescano andati a tutti c'è una roba che mi ha detto che in America arriva l'acqua nostra a portare in aereo cioè non è possibile c'è questo qua c'è il sugo di bussoiotti mi ha detto no c'è queste mie considerazioni potrebbero andare avanti fin domani mattina però per dire la prima roba è che seguiamo da non so seguiamo a corti o no che vogliamo superare il limite di saturazione del territorio lo vogliamo superare ma lo avevamo superare vent'anni fa e dopo di allora abbiamo fatto su un sacco di casini ancora ma ho fatto su quei sindaci buoni quei sindaci bravi perché la pressione della macchina edilizia che la macchina edilizia è semplicemente come dire un animale feroce una tigre che quando a casa partia non ti affermi più cioè in America lì ha bisogno delle guerre perché lì ha la macchina bellica che non si è più capace di fermarla non si è più capace di riconvertirla noi altri per fortuna facciamo facciamo forse lo facciamo in maniera un po' più tenue però la macchina edilizia che siano buoni solo a fare case e usare solo il cemento l'ha fatta in maniera che abbiamo costruito dappertutto e l'importante sarà costruire e il paesaggio bello sarà vedere una casa nuova sarà vedere un cappanone nuovo no questo sarà l'importante adesso abbiamo case cappanone da tutte le parti ma mi credo che prima di occupare un altro metro di terra un altro metro di terra bisogna riuscire per convertire quelli che abbiamo fatto male e questo non siamo buoni a farlo non siamo capace di farlo perché ancora adesso quei sindici che si è dalla nostra parte che capisce questo si è costretti si è stretti in una morsa che fa spavento per dire se i comuni si è saschei negli ultimi 5 anni 10 anche l'unica maniera per ciò saschei dei comuni era fare zone industriali zone edificabili anche se queste dopo non venivano edificate perché si portava a casa i soldi delle tasse che c'era sopra qualcuno che fabbricava e dopo le case in qualche maniera si muoveva però se rendiamo conto quante migliaia di abitazioni che si sfitte e si ferme e adesso tutti quanti si incazzate perché mi godono tre case sfitte e ferme e mi domandano una montagna dei soldi di IMU no cioè sono convinto che se può fare sono convinto e anzi se è doveroso se è importantissimo che categorie economiche con gli amministratori si mette insieme e si attacca ragionare però ho l'impressione che la macchina economica la se è così forte che fare quel percorso che se proponiamo noi altri è affascinante è un bel sogno però che non crediamo che sia facile perché è molto ma molto più difficile mi credo che se resta molto finito molto importante che in serata e cosita riuscissino a riportare qua magari che ne è qualche due in giro qualche vecetto che ha solo 80 anni solo 80 anni credo che ne portariano a centinaia di saggezza per cui capirino subito come fare beh